Oggi è un argomento che reputo veramente interessante. Perché interessante? Perché si ritorna a parlare, già ne ho parlato i miei precedenti, di nuovo di autenticazione a due fattori. Però questa volta dove andiamo a inserire l'autenticazione a due fattori? Andiamo a vedere, prente nella email di Google, quindi nella classica Gmail. Non sto qui a dire quanto è importantissima l'autenticazione a due fattori, mi raccomando andatela subito ad inserire non solo su Gmail, su tutte le altre email, insomma provate le email che voi avete, a cui siete registrati, però vi ricordo che l'autenticazione a due fattori ormai può essere inserita comunque su qualsiasi piattaforma, anche quelle di acquisto famosissime come Amazon, come eBay, eccetera, eccetera. Quindi se avete la possibilità, mi raccomando, per evitare di trovarvi, di ritrovarvi anzi con i vostri profili o email clonate, mi raccomando andate ad inserire l'autenticazione a due fattori. Non perdiamo altro tempo perché l'autenticazione a due fattori ovviamente è un argomento a cui io veramente tengo molto e spingo soprattutto i miei utenti, i miei clienti ad attivarla, quindi non perdiamo altro tempo e vi faccio vedere subito quanto è semplice andarlo ad attivare su Gmail. Quindi non dobbiamo fare altro che aprire intanto la nostra Gmail, andiamo praticamente sul nostro nome, quindi a testa come potete vedere, clicchiamo all'interno, andiamo su gestisci il podcast Google, cliccheremo all'interno, il tempo che si apre, andiamo su sicurezza a sinistra, scendiamo un pochettino giù e c'è la verifica in due passaggi. Ci chiederemo all'interno praticamente e qui possiamo, come potete vedere, andare a aggiungere il numero di telefono, quindi in questo caso vi arriverà il classico SMS nel vostro telefonino. Allora io non consiglio tanto questo mando, con altre mail sì perché è veramente comodo, però con Gmail mi sorto un dubbio, soprattutto legato a smartphone che hanno rete team e di solito il messaggio potrebbe risultare a pagamento, cosa che invece tutti gli altri account non fanno. Quindi siccome è successo proprio personalmente che ogni volta che arrivasse un messaggio da parte di Google o un'autenticazione venivano a scalare quei 6-7 centesimi, è sempre meglio magari non utilizzare questo metodo dell'aggiunzione del numero di telefono stesso, quindi andare ad attivare altri tipi, come vediamo sotto, altri tipi di autenticazione a due fattori. Quindi basta che prendi e scendiamo giù e possiamo vedere altre indicazioni di fattori che sta da Google, ma a me interessa l'authenticator, quindi ci cliccheremo all'interno praticamente. Una volta cliccata all'interno dobbiamo andare ad aprire l'app che avete già scaricato in passato, io ho sempre parlato di autenticazione dei fattori, quindi sicuramente chi mi segue già la ritroverà l'applicazione su un telefono. Però se magari qualcuno sta capitando al nuovo per il mio canale e quindi non ha mai visto video, intanto vi dico che fa male perché io ricordo che vi dovete iscrivere e seguire i video. E dopodiché potete andare a scaricare l'authenticazione a due fattori di Google, che è la classica Google Authenticator, sia per iPhone che per Android. Cioè, e non dobbiamo fare altro che andare a fare la configurazione app di autenticazione, quindi cliccando proprio con il più. E già voi qua stesso vi dice cosa dobbiamo fare. Possiamo o scansire questo codice QR, che è la cosa più semplice, però andando proprio ad aprire il Google Authenticator, come dice lui, cliccare sul più perché vogliamo aggiungere un nuovo sistema di autenticazione a due fattori, e scansire questo codice praticamente QR. Quindi, per chi, per esempio, ha la fotocamera che non va, oppure magari ha paura a scansire i codici QR, ovviamente questo è sicuro perché è di Google, possiamo andare a scrivere non riesco a scansionarlo, non riesci a scansionarlo, e quindi in questo caso si aprirà una nuova finestra, che è questa di qui. Quindi una finestra totalmente manuale, non dobbiamo fare altro sempre che cliccare con il più, andare a inserire questo codice, che da lui ovviamente senza i spazi, quali dà con gli spazi, ricordo, per farvelo capire meglio. In questo caso andare ad inserire l'indirizzo e mail, e da con di che non rimane altro, soltanto che fare su aggiungi. Una volta che abbiamo fatto tutto sul Google Authenticator, non ci rimane che fare avanti, e qui andiamo a inserire il codice di 6 numeretti, che ovviamente è stato generato dalla nostra applicazione. Andiamo a cliccare su verifica, e il gioco è fatto. Praticamente abbiamo inserito l'autenticazione a due fattori anche nella nostra e-mail di Google. In questo caso, praticamente nessuna persona potrà entrare nella nostra e-mail, se non ha nemmeno a disposizione il nostro smartphone. Quindi, avete capito bene quanto è semplicissimo andare ad attivare l'autenticazione a due fattori su Gmail, e soprattutto ve la consiglio, quindi fatelo tutti immediatamente, perché purtroppo molti, molti utenti hanno avuto l'account acherato di Gmail, di Libere, eccetera, eccetera, di tutte le loro e-mail, e a sua volta purtroppo sono collegate agli account, praticamente, sia di Facebook e di Instagram. Quindi a sua volta entrano e hanno tutta la facilità possibile e immaginabile di entrare sia su Facebook, sia su Instagram. Quindi, mi raccomando, inserite l'autenticazione a due fattori, ovunque, ovunque sia disponibile. Ora, cambiamo di guardatura per i saluti finali. E qua avete potuto costruire proprio con i vostri occhi, ci siamo stati veramente poco, ed è veramente, veramente semplice, soprattutto sempre con l'ausilio di un'unica applicazione, perché non lo dovete scaricare chissà quanto, è sempre la stessa Google Authenticator. Quindi, con Google Authenticator, direttamente vi riproverete tutti i vostri account messi all'interno, con l'autenticazione a due fattori, quindi, cosa che è più semplice, non c'è. Quindi, mi raccomando, avete capito l'importanza per non farvi clonare i vostri account, tutte le vostre main, andatelo ad attivare subito, ovviamente, sempre se vi va, ma io ve la consiglio vivamente. A tutti, spero di aver invitato, alla prossima.